Non si arresta l'azione repressiva della criminalità organizzata da parte della compagnia dei carabinieri del gruppo di Locri. Nell'ambito del piano nazionale e trasnazionale di contrasto, la criminalità denominato Focus Drangheta e della pianificazione coordinata dei servizi realizzata sulla scorta delle politiche di controllo del territorio implementate sotto la direzione generale del prefetto di Reggio Calabria, Claudio San Martino. Numerose pattuglie dell'arma dei carabinieri sono state impiegate in una mirata strategia operativa di aggressione ai sudalizi mafiosi elaborata in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica al fine di contrastare la recrudescenza della fenomenologia criminale. I carabinieri hanno eseguito controlli e perquisizioni personali e domiciliari nei confronti di pregiudicati inseriti nelle locali Kosche e Drangheta. Nello specifico, gli uomini delle Forze dell'Ordine a Marina Giosa Ionica hanno rinvenuto in una cantina di pertinenza dell'abitazione di un soggetto ritenuto organico alla Cosca Mazzaferro attiva in quel centro un bunker non utilizzato lungo 7,5 metri, alto 1,8 e largo 3, il cui accesso occultato era consentito mediante lo scordimento sui binari in ferro di un blocco di cemento azionabile a mano. Il locale è stato posto sotto sequestro e conseguentemente i proprietari dell'immobile sono stati denunciati per abusivismo edilizio. Tratto in arresto Panetta Salvatore, 32enne del posto, attualmente sorvegliato speciale di polizia incolto nella fragranza di violazione degli obblighi relativi alla citata misura di prevenzione. A pochi chilometri di distanza Monasterace Marina e carabinieri del gruppo hanno tratto in arresto Ruga Domenico, 38enne del posto, in esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica. L'arrestato, riconosciuto definitivamente colpevole di associazione tipo mafioso, è stato associato presso la casa circondariale di Reggio Calabria, dove dovrà scontare una penna di tre anni, sette mesi e 28 giorni di carcere. La condanna scaturisce dal processo denominato la faida dei boschi, la cui indagine, all'epoca condotta dal nucleo investigativo del gruppo di Locri, ha consentito di accertare la presenza di un associazione tipo mafioso facente capo alle famiglie Ruga, Leuzzi e Vallelong. In manette anche Cavallo Daniele, 28enne di Cauloni, accolto nella fragranza di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di munizioni. Lo stesso nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata presso la sua abitazione, estesa a due strutture in disuso ma comunque nella sua disponibilità, è stato trovato in possesso di un involucro in cellofan contenente oltre 100 grammi di stupefacente del tipo cocaina, due involucri contenenti circa 100 grammi di sostanze da taglio, 20 grammi di stupefacente del tipo marijuana, alcuni bilancini di precisione e numerose cartucce di vario calibro. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato.